È successo a Comics Gear Tutti gli uomini ai loro posti Dare energia al cannone a onde moventi Dare emissione di energia dal motore Chiudere valvole di sicurezza Aprire circuito cannone a onde moventi Aprire circuito La pressione nel cannone è in continuo aumento Ora è al massimo Tutta l'energia dell'astronave è convogliata nel cannone ad onde moventi Rimuovere la sicura Sicura rimossa Pressione energetica all'interno del cannone 90% Controlli sistematici effettuati Venture, passa a Wilter il sistema di guida Eccotelo qua, è tutto tuo, Wilter 5, 4, 3, 2, 1 Fuoco Ammazza che flessata Ma quale cazzo del bottone sviluppa Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti